L'idea di questo libro è nata qualche anno fa proprio per ricordare le traversie di tanti emigrati che hanno patito il viaggio, hanno patito questa lunga traversata oltre l'oceano. E' un tema importante, il più grande fenomeno sociale italiano che è appunto l'emigrazione ma tra l'altro è un tema che è attuale anche oggi da qualche anno qui in Italia e in Europa per tutti gli africani che arrivano sulle nostre coste. Questo fenomeno dell'emigrazione è stato sempre un fenomeno purtroppo anche sottovalutato e non trattato adeguatamente quello che dovremmo fare in Italia e proprio questo, ritenere questo fenomeno come uno studio, anche farlo conoscere di più nelle scuole perché si possa capire attraverso quello che è successo negli anni passati, i migliori di italiani che sono andati fuori, si possa capire anche la grande tragedia di questa gente che arriva adesso in Europa. E questo libro è un omaggio anche ai tanti che sono morti durante la navigazione, durante questi passaggi attraverso l'oceano per arrivare fino alle lontane Americhe, quindi è un ricordo e un omaggio soprattutto per loro.